Sì e qua ho fatto due queste mamme che ci fanno questi figli siamo divisi inediti ma io qua o là sta sono riuscito a fare lì perché sta sei riuscito a fare qui è là dentro iniziamo non c'è lei non c'è ma che ha più un po' che ha più lei lei le 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 e poi quando fa carica il telefono al bar e poi quando fa carica il telefono al bar